Buongiorno a tutti, siamo qui in compagnia del dirigente scolastico Giulia Rosa Trimboli in occasione della consegna dei diplomi Cambridge e allora le chiediamo subito perché ha accolto questo corso e cosa ne pensa riguardo? Perché l'ho accolto è una bella domanda, cinque anni fa il professor Riorio bussò alla mia porta e mi disse ma che dice vogliamo iniziare a fare, a preparare, a proporre un nuovo percorso formativo per i nostri studenti e studentesse? Poiché io sono anche una abbastanza istintiva anche se ci rifletto poi dopo, mi è piaciuta, mi è piaciuta l'idea, mi è piaciuta la proposta e ho dato tanta fiducia ai miei docenti e alle mie docenti che ci hanno creduto e questi sono i risultati, i ragazzi e le ragazze poi sono stati bravissimi e per cui abbiamo potuto ora festeggiare con tutti coloro che ne hanno fatto parte questa bella esperienza, questa bella avventura. Invece come ha vissuto questo momento di soddisfazione generale? Pensa che lo rivivremo con le altre classi? Io lo spero, lo spero perché noi lo portiamo avanti perché la staffetta poi è passata alla professoressa Franco dal professor Riorio e per cui sì lo dobbiamo rivivere e anche perché poi con l'esperienza tutto è stato migliorato e sarà ancora perfettibile. Perfetto, noi ringraziamo la dirigente e vi auguriamo una buona giornata.